ciao sono tyson ho nove anni sono qui da tre e faccio parte del clan degli sfigati e adesso vi spiego il perché sono grande grosso e brizzolato un cane corso di una certa età con una zampa un po' accioccata lo sguardo dolce e il sorriso più bavoso dell'universo non sono da buttare via ho stuoli di volontarie non proprio di primo pelo e di cagnoline niente male a cui faccio ancora girare la testa ogni tanto mi presentano delle persone nuove che poi se ne vanno via con qualche mio amichetto che poi non vedo più ma torniamo a noi allora ve lo devo dire io qui ci sto bene e tanto anche intanto ho una casa tutta mia con giardino calda d'inverno e fresca d'estate le pulizie sono comprese e per ora nessuno mi ha chiesto l'affitto e vi dirò di più mi servono anche due pasti gourmet al giorno ecco se proprio devo essere sincero non capisco questa mania della ginnastica o ci provano tutti i santi giorni ma io li lascio fare anche perché poi mi aspettano dieci round di coccole in genere su questo fantastico prato verde chissà un giorno forse troverò una famiglia che me le farà anche sul divano di casa